Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Nell'episodio precedente, la risata è uguale a quella del mio incubo. Anch'io mi ricordo. Eravamo migliori amiche. Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears. Best friends forever. Mi sto divertendo tanto con voi, ragazze. Sì, anch'io. Ma forse ora dobbiamo tornare. Stiamo avvantaggiando i ragazzi nella sfida. I ragazzi, eh? Soprattutto Narvi, vero? No, intendo tutti i ragazzi, Crystal. E se viaggiassimo attraverso tutti i mondi Magic Tears, forse scopriremo cosa sta succedendo. Io non voglio camminare. I miei piedi da diva non possono fare un passo in più. Ah, per favore. Ma in che mondo vive, Daisy? Ora basta. Abbiamo votato. Dovete capire che è meglio se torniamo indietro subito o saremo in un guaio enorme. Primi, dai un'occhiata in giro. Non vedi che c'è qualcosa che non va? È tutto sbiadito. A questo punto è evidente che c'è qualche problema in tutti i mondi. E prima di tornare indietro lo dobbiamo risolvere. Sì, giusto. È vero. Per questo non abbiamo votato. Di nuovo, la stessa risata del mio incubo. Di quale incubo stai parlando? Ho fatto un brutto sogno e sentivo una risata come quella dappertutto. Eh, forse è meglio non scoprire di cosa si tratta. Possiamo andare adesso? Se avessi la sfera di cristallo di mia cugina Tina, potrei capire cosa sta succedendo e come andarcene via da qui. Sì, andiamo. A casa di Tina. Cerchiamo la sfera. Forza. Andate pure. Io vi aspetto qui. Oh no, tu vieni insieme a noi. Volare è troppo cool. Che bello. Cominciamo a cercare. Guardate, questo è un ciuccio di diamante. Quando eravamo bambine passavamo giornate intere a cercarli. Sarebbe perfetto come ciondolo. Preferivo il farfallino. Stava benissimo con il cappello. L'ha trovata. Prendila, Phoebe. Magica sfera di cristallo. Mostrami che sta accadendo di male. Se serve, posso anche fare una verticale. Beh, credo tu debba farla davvero. Sì, ha ragione. Bene, ora vedo qualcosa. Sì, è una mela gigante. Una mela? E dove possiamo trovarla? A tutti i frutti Mitch. Andiamo? In che direzione? Oh, quella è Nila. Andiamo con lei. Oh. Wow. Devo dire che non me la ricordavo così. Così. Mussolente. Deprimente. È davvero terribile. Guarda, ci sono tantissime jellies. Oh, sembrano molto tristi. Dai, fammi andare più vicino. Forza. Ancora un po'. Non così tanto. Non così tanto. Jenna, vai più piano. Oh, mi dispiace. È una cosa disgustosa. Questa probabilmente era una mela. È impossibile trovare qualcosa qui. Oh, no. Che cos'è successo? Il lago Lampone è marcito. Vi ricordate quando abbiamo dovuto salvare Mel? Abbiamo bevuto quasi tutto il lago. Era così buono. Non come adesso. E quando le jellies si sono intrufolate nella fabbrica? Sì, è stato un disastro. Ma ci siamo divertiti a rimettere a posto tutte insieme. Tutta questa amicizia mi fa sentire male. Vi farò smettere di ridere presto. Forse ho fatto un po' la diva. Mi dispiace. Siamo ancora amiche, vero? Sì, ma prima è meglio che ti accompagni alla spiaggia. Così puoi lavarti un po'. D'accordo. Dobbiamo trovare la mela che abbiamo visto nella sfera di Tina. Oh, no. Non ce la faccio più. Io mi arrondo. La mela! Ti prego, resisti! Dov'è, Gianna? Serve qualcuno che voli. Non c'è tempo. Presto. Dobbiamo formare una catena umana. Manca ancora un po'. Coraggio, ragazze, tutte insieme. Dai, forza. Dobbiamo resistere. Ci sono quasi. Oh, no! Al tre. Uno. Due. Tre. L'ho preso. No, Rima! Grazie per averlo salvato, Jenna. Per fortuna stai bene. Grazie, ragazze. Oh, guardate! E i collane! E sono tutti uguali! Wow! Che piace! Best friends forever! Tutti frutti! Tutti frutti! Tutti frutti! Questa è la mia Tutti Frutti Beach! Sono tornati i colori! E c'è un buon profumo! Tutti frutti! Tutti frutti! Tutti frutti! Cosa vuoi dirgli? Hop, 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 hop! Bidò! Ho capito! Adesso possiamo tornare indietro! Certo! Dovevamo solo essere di nuovo amiche e collaborare come quando eravamo piccole! Best friends forever! Anche se non mi spiego ancora quella risata malvagia! Che importa, i colori sono tornati e noi possiamo tornare al campus! Sono sicura che mi mancherai tanto! Ma dobbiamo crescere! Non possiamo restare piccole per sempre! A presto, Snowy! Forza! Dobbiamo tornare indietro e vincere il premio! Ma prima di andare posso fare un ultimo volo! Ciao! A presto! Fammi sapere se succede qualcos'altro! Vorrei che potessi venire con me, Rim! Sappiate che non è ancora finita! Cosa? Ma quella non era... Ah, ma no! Ciao, Rim! Mi mancherai tanto! Trasformerò il campus in un luogo di oscurità e tenebre! Rim! Rim! Wow! Sei meraviglioso! Ma cosa ti fai qui? Sbrigati, Dreamy! Presto! Vinceranno i ragazzi! Se qualcuno scopre che sei qui dovrai tornare indietro! Presto! Devi nasconderti! Forza! Siete in ritardo! Ma non correte! Uno, due, tre bandierine! Abbiamo i nostri vincitori! Il premio speciale va a voi, ragazzi! Sì! Oh no! C'eravamo quasi! Veramente ne avevamo una! Non importa! Adesso siamo di nuovo amiche! Sì! Siamo le migliori! E poi, come premio di consolazione, ecco un po' di torta! Un set di trucchi! È questo il premio speciale? Beh, a me piace! A me no! Quello è il nostro premio! Davvero? Allora prenditelo! Ok! Ora vedrai! Mi piace questo posto! Ho deciso che distruggerò questa amicizia! Cazzo al ladro! Trovato! Rin! Ti ho cercato dappertutto! Tieni! L'ho preparato durante la lezione di cucina! Tutti gli ingredienti sono biologici! Ti piace, eh? Te ne porterò ancora! No, Rin! Sai che non puoi venire con me! Nessuno deve vederti! Un miscollette ti caccerà dal campus! Appena potrò, te ne porterò ancora! Ora devo andare! Ci vediamo domani, Rin! Buongiorno! Domani è il giorno delle visite! Tutto dovrà essere perfetto! Il cibo che ho preparato per i visitatori è squisito! Ricordate di tenere il cibo al fresco nel frigorifero della caffetteria! E non dimenticate! Controllate che il frigorifero sia alla giusta temperatura e che il cibo sia tenuto al fresco per i nostri ospiti! 3, 2, 1... Per essere forte, mangia sano! E per tutto il giorno sarai un oregano! Ciao ragazzi! Avete visto delle mele in giro? Sono giorni che non ne trovo! No! E non sono l'unico cibo scomparso! Perché sono spariti anche un bel po' dei miei cupcake! Io invece credo che qualcuno mi stia spiando! Qualcuno con i capelli colorati! Cosa? Sei sicura? Non starai esagerando un po'? Tu come spiegheresti le ombre che vedo dalla finestra? Forse è un tuo fan! A quanto pare ti piace avere segreti con le tue amiche! Beh, credo che ora mi divertirò un po'! Mi assicurerò che il cavallo venga cacciato e che tu lo segua! Stop! Oh! 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 I miei cupcake sono spariti! Qualcuno di voi ha visto le mie fragole! E dove sono le mie mele? Ah! Qualcuno ci sta derubando! Avanti, ragazze, di certo sarà... Dobbiamo catturare il ladro. Bene, è ora di trovare quel ladruncolo. Ci divideremo in tre squadre e la squadra A controllerà i food truck, la B controllerà le stanze e la squadra C... Sì, eccoci qua. Con noi tre il cibo è al sicuro. Sì! Cercate di non fare danni, va bene? Ragazzi, io... io devo andare a... ecco... a posizionare le trappole per il ladro. Rima! Rima! Oh, poverino. Devi nasconderti. Stanno cercando il ladro che si è mangiato tutto, ti scopriranno. Squadra A, con me! Il ladro deve essere nascosto qui da qualche parte. Squadra B, sono certa che il ladro sia nascosto laggiù. Mi dispiace, sarà soltanto per un po'. Userò dei torsoli di mela per creare una pista falsa in modo tale da depistarli. Poi penserò a un posto migliore in cui nasconderti. Seguitemi, il ladro si trova qui, me lo sento. Oh no, sono già arrivate! Ehi, guardate! Torsoli di mela! Ci siamo, il ladro deve essere qui dentro, andiamo. Lì non mi troveranno! Questo è ciò che credi tu? È così buio qui. Le tracce portano lì. Il ladro deve essere dietro quella porta. Aspetta un ottimo. Non possiamo entrare, non è permesso. Ma il ladro deve essere lì dentro. Forza, andiamo. Aiutatemi. Oh no, stanno per entrare! Devo fare qualcosa! Su, spingete! Dreamy? È ora che cali l'oscurità. Oh, grande, è andata via la luce. Dreamy, sei tu il ladro? Hai rubato tu le mele. E che mi dici dei miei biscotti? Aspettate, non sono stata io. Posso spiegare? Ehi, un momento. Sei andata via la luce? Significa anche che... Il frigorifero non funziona! Oh no, si pensi che è un periodista male! Aspettate un attimo, ragazze. Vediamo un po' qual è il problema. Il generatore non è rotto. Era solo scollegato. Sì, mistero risolto! Ma come facciamo a sollevare il generatore? Questa è un'ottima domanda. Vediamo. Dreamy? Sei davvero tu! Wow, sei grandissimo! E cosa ci fai qui? È per questo che ho preso le mele. Per darle a Rim. Ma non so niente sugli altri furti. Siete arrabbiate con me? No, ma perché non ci hai parlato di Rim? Temevo avreste cercato di mandarlo indietro. Perciò l'ho nascosto. Dreamy, Rim è fantastico! Non c'è nulla di male se volete restare insieme. Dite sul serio! Certo! Vi adoro! Forza, Rim! Solleva il generatore. Sì, divertissimo! Ce l'abbiamo fatta! L'oscurità inghiottirà il campus e voi non la fermerete. Ancora tu! Quel cavallo non rovinerà i miei piani. Rim è un unicorno. Il più forte di tutti. E il più bello di tutti. E ha un grande appetito! Noi lo proteggeremo perché è il nostro amico. Potere nell'amicizia! No! Di certo è stata Shadow a rubare tutte le nostre cose. Ci dispiace, Dreamy. Tranquilla, è tutto ok. Dobbiamo pensare a dove nascondere Rim. Miss Collec non deve sapere che è nel campus. Il cibo per gli ospiti! Era tutto buonissimo. Il cibo è al sicuro. Nelle nostre pance. Guarda! Ora funziona di nuovo. Credi finiremo nei guai per aver mangiato tutto? No! Attenzione, studenti! Spero sia tutto pronto perché gli ospiti arriveranno fra quindici minuti. No, che guardo! Spero sia tutto pronto perché gli ospiti arriveranno fra quindici minuti. Spero sia tutto pronto perché gli ospiti arriveranno fra quindici minuti. E' un po' di nuovo insieme. Tutti, 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 tutti. Lady, Lady, Lady! Vegliati, siamo arrivati al campus. Ho fatto un brutto sogno. Sembrava così irreale. Ehi, siamo arrivati. È semplicemente fantastico! Lo sai, Connie? Ho la sensazione che qui vivremo tantissime avventure. Andiamo! Ti chiedo scusa. Non preoccuparti. Hai visto cosa è successo? È una cosa assurda. Non si sono neanche salutati. Non capisco. Può darsi che... Ciao, Narvi! Ciao, Ella! Ciao! Io me ne vado. Non si ricordano di noi. Forse perché siamo un po' cambiate. Wow! La capiteria è super cool! E guarda! C'è solo cibo biologico! Ci saranno lezioni di cucina. Non vedo l'ora di aggiungere ricette al mio libro. Ciao, Dreamy! Ciao, Crystal! Non vi ricordate di noi? Giocavamo insieme quando eravamo bambine. Ha detto bambine? Beh, bel modo di cercare di fare amicizia. Ma a me non interessano le cose da bambine. Oh, perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo migliori amiche per sempre! Non rilasso altre interviste. Sono al campus di rilassarmi. Per sempre! Scusami, va tutto bene? Io mi chiamo Daisy. Sì, sì, piacere di conoscerti. Sono Shaq. Beh, allora ci vediamo a lezione. Sì, sicuramente. Ci vediamo in classe. Adesso io devo andare. Ciao! Ci vediamo a lezione. Oh, Shaq! Mi sentite? Sì, immagino che mi sentiate. Vi do il benvenuto al mio campus, cioè al Talent Campus, dove metteremo le ali al vostro talento grazie ai nostri corsi esclusivi e alla mia infinita pazienza. Una cosa importante, ci sono delle regole fondamentali. Non si corre per andare a lezione e niente cellulari al campus. Ci sono sempre delle regole. E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere. Speriamo di essere insieme. Dai, dai! Rimi e Phoebe. Nella camera numero due, Ella, Daisy, Stella e Crystal. Ok. Nella camera numero uno, Lady, Lala e Connie. Evviva! È fantastico! Con Lala ci divertiremo un sacco. Io scelgo il letto per prima. No! Prima io... Volete vedere un trucco? Mi piace! È bellissima! È un profumo buonissimo! Carta, forbici, sasso per scegliere il letto? Carta, forbici, sasso! Sì! Ho vinto io! Scelgo il letto di sopra! Io... So fare un trucco! Finito! Che bello! Hai fatto un ottimo lavoro! Anche il tuo lato è molto carino! Guarda! Ecco l'ala! Ditemi, è questa la carta a cui stavate pensando? No. Vuoi delle noccioline? Aspettate un attimo, forse era... Questa? Beh, in realtà, scusa, ma non ci hai detto di pensare a una carta? Lala è ancora super divertente! Una cosa importante! Se non volete essere rimandati immediatamente a casa, non dovete mai lasciare il campus. E ora, passiamo alle buone notizie. Questo pomeriggio ci sarà un grande gioco al campus. I vincitori riceveranno un premio speciale. Dobbiamo vincere! Quel premio deve essere nostro! Oh, no! Questa volta ci hanno separate! È una cosa terribile! Tranquilla, è solo per questo pomeriggio. E in questo modo possiamo conoscere gli altri e parlarne insieme più tardi. Guardiamo il lato positivo! Oh, va bene. Come ho detto, la prima squadra che arriverà alla fontana con le tre bandierine sarà la vincitrice. Per trovare le bandierine dovete risolvere gli indovinelli. Sì, il primo è questo. Se la musica è nel tuo cuore, per cantare trova il posto migliore. E ora potete iniziare a cercare. Io dico di cercare sul palco. Ottima idea. Ricordatevi di seguire sempre le regole. Secondo me è l'ufficio di Miss Colleggi. Non ho intenzione nemmeno di fare un concerto. E se fosse la camera di Daisy, lei sa decisamente cantare. No, no e no. Non voglio cantare, mi voglio solo riposare. D'accordo, possiamo prima cercare in un posto e poi nell'altro. Va bene, cominciamo dalla camera di Daisy. No, dall'ufficio di Miss Colleggi. L'ho trovata! Sì, grande! Brava! Che facce buffe avete? È finto, era uno scherzetto. Non è per niente divertente, Crystal. Dobbiamo vincere quel premio. Ma quanto è noiosa. Ehi, guardate, sì, ho la bandierina. Ti prego, Crystal, smettila. Oh, bravissima, Crystal. Ne abbiamo già una. Vinceremo di sicuro. Ehi, qui c'è un biglietto. Se il premio vincere vorrai, nel posto dove gli alberi coprono il cielo andrai. Nella foresta. Andiamo. Deve essere nell'ufficio di Miss Colleggi. Andiamo, io voglio vincere il super premio. Anch'io, per questo dobbiamo andare nella camera di Daisy. Aspettate, quella è? Oh, non posso crederci. Ragazzi, è una jelly. Te la sei immaginata. Le jelly non esistono. Scusate, ma di cosa state parlando? Sì che esistono. Non ve lo ricordate? È una lacrima magica. No, non può essere vera. Qualcosa non va. Sembra spaventata. Penso ci stia chiedendo aiuto. È il portale magico del cuore alato. Sì, certo. E io trasformo le cose in gelato come quando ero bambino. Ragazzi, quello è davvero un portale magico. Ma per dove? Beh, copriamolo. Aspettatemi. È fantastico. Guardate, non sono le noccioline di Connie. Un portale magico. È una cosa meravigliosa. Dobbiamo riuscire ad attraversarlo. Ma come? Ci sono? Cuore alato. Fammi raggiungere l'altro lato. Che c'è adesso? Ti appunto una zanzara o qualcosa del genere? Non ve lo ricordate? Fa un passo di qua e fa un passo di là. Il portale fantasy di luce brillerà. Secondo te dove ci porterà? Lo vedrete. Vi piacerà un sacco. Continua. TSS Festa al campus. Oh no, il mio oroscopo dice che non sarà più popolare. Sicuramente sto già perdendo follower. Devo fare qualcosa. Andiamole. Di non prendere l'oroscopo troppo sul serio. Buongiorno, futuri talenti. Pronti a partecipare alle vostre lezioni preferite? Niente cellulari e niente feste serali. Non sono consentiti. Ho trovato. Darò una festa esagerata per riacquistare la mia popolarità. Stasera festa? Sì, festa! Tutti al campus mi adoreranno. Ciao, Daisy. Ciao, Daisy. Avete sentito della festa di stasera? Sì, non vedo l'ora di andarci. Ehi, Shaq! Vieni anche tu alla festa! Oh! Oh, sì, la festa. Non posso. Ho qualcosa di più importante da fare. Oggi voglio chiedere a Daisy di andare a prendere un gelato. Noi tre potremmo andarci insieme e poi magari potresti inventarti una scusa per lasciarci da soli. Beh, io preferirei andare alla festa. Ma... Ciao, Daisy. Ti va di andare a prendere un gelato insieme a me? Daisy, devi venire a cantare alla mia festa stasera. Ma scusate, davvero non vedete l'ora di andare a quella festa noiosa? Noiosa? La mia festa? Non devi preoccuparti, Lady. Puoi contare su di me. Andiamo? Dobbiamo dirlo a tutti. E voi due non pensate nemmeno di venire. No! Aspetta un attimo. Io volevo dire che... Oh, io volevo andarci. Una festa? Questa è la mia occasione. Farò in modo che la festa sia un disastro. Le tenebre domineranno! È ora di andare a letto. E ricordate, niente feste non sono consentite. Io adesso mi siedo qui a sorvegliare. Andiamo, Shaq. Forse se chiedi scusa inviteranno anche noi. Che ci fate voi due qui? Non era una festa noiosa? Shaq ti vorrebbe dire una cosa. Shaq? Sì, penso ancora che sia una festa noiosa, però... C'è Daisy e... Noiosa? Sei solo invidioso della mia meravigliosa festa? Volevo soltanto chiederti scusa. Molto bene. Allora, finché non chiede scusa, lui non è invitato alla festa. Invidioso? Noi faremo la nostra festa. Scommetto che sarà molto meglio della tua. Beh, staremo a vedere. Che cosa voleva, Shaq? Oh, niente. Pronti a divertirvi? Sì! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo. Ho anche il mio kit degli scherzi. Daisy, vuoi una foto? I ragazzi stanno facendo una mega festa. Perché non andiamo a dare un'occhiata? Non ci penso proprio. Nessuna festa può essere più divertente di questa. Connie, alza il volume. Diamo inizio alla festa. Sembrano buonissimi, Connie. Non so se mangiare quello al cioccolato o quello alla fragola. Questo qua. Penso che proverò a vivacizzare questa festa. Sorridete. Dite cheese. Balliamo! Facciamo festa! Cantiamo! Non fermate il divertimento! Dremi, hai visto che cosa hai fatto? Non sono stata io. Sono sicura che quello era uno scherzo di Crystal. Mio? Tranquille, non è successo niente di grave. Ci stavamo divertendo un mondo, ma tu hai mandato tutto all'aria. Ma non sono stata io. No, certo. Per favore, ragazze, state rovinando la festa. Vorresti dire che sono una bugiarda? Forse. Allora io vado all'altra festa. Crystal, no! Mi piace. Sta a vedere. Arriveranno presto. Facciamo le luci da discoteca con la torcia. Che succede? Aggiustalo! Va bene, va bene. È facile. Possiamo andare alla festa adesso. Aspetta, arriva qualcuno. Magari è Daisy. Andiamo. Oh, ecco dove eri finita. Dai, non essere arrabbiata. Sono sicura che Crystal voleva solo ravvivare la festa. Guarda. Sembra che qualcuno abbia messo un dolcetto nella tromba. Quindi non era uno scherzo di Crystal. Ora devo andare a cercarla. Crystal, mi dispiace. Lo so che non sei stata tu. Guarda, qualcuno ha messo un dolcetto nella tromba. Qualcuno chi? Dobbiamo dirlo alle altre. Perché si è fermato tutto? Mi sento debole. Sta succedendo qualcosa. Ah! Ho trovato! Sveglierò mi scollette che spellerà tutte dal campus per colpa della festa. Ehi, tu! Chiunque tu sia, potrai anche rovinare la nostra festa, ma non rovinerai la nostra amicizia. Non importa quello che accadrà. Noi saremo sempre insieme. Quella luce! No! Vi assicuro che tornerò. Che cos'era esattamente quella luce? E chi era quella signora? Probabilmente quando abbiamo unito le forze, la potenza della nostra amicizia ha attivato il potere delle collane. Cosa? Non mi sono addormentata! Non mi sono addormentata! Che state facendo? Noi le abbiamo portato a un cuscino. Così può stare seduta più comoda. Ah! D'accordo! Wow! Ma guarda un po'! Sembra che alla fine tu ti stia divertendo. D'accordo, hai ragione. La tua festa è fantastica! Ehi, guarda! La festa è decisamente un successo! Il mio livello di popolarità è al cento per cento! Senti, Shaq. Ti voglio andare insieme a prenderci un gelato? Ups! Senti, Shaq! T'è un gelato! Ti voglio andare insieme a prenderci un gelato! E' 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 un gelato! al campus! Questo pomeriggio ci sarà un gioco al campus i vincitori riceveranno un premio È il portale magico del cuore alato! Ritorno a Magic Tears Ma dove siamo? Io sono già stata qui anch'io, mi sembra familiare ma era più colorato, vero? È proprio come nel mio incubo Ecco perché la Gialli mi chiedeva aiuto Ehi! Questa era la mia casa! Guarda! E la mia era questa qui! Ne abbiamo fatte tante quando eravamo piccole Possiamo andarcene adesso? Questo posto è noioso Sì, siamo state qui quando eravamo bambine però ormai siamo cresciute quindi andiamocene Hai ragione, questo posto non è più come prima e nemmeno noi È evidente che siamo tutte cambiate Cerchiamo Connie e le altre e torniamo al campus Ottima idea! E poi siamo in testa alla gara O forse adesso siamo scese al secondo posto Un attimo! Guardate! Dobbiamo seguire le noccioline di Connie Andiamo! Connie! 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 Connie, siamo qui! Sei davvero tu! Loro! Mila! Snowy? Ho sentito tanto la tua mancanza Adesso mi ricordo tutto Vivevamo a Magic Tears Non ci vedevamo da tanto tempo Io vivevo qui vicino In un bellissimo igloo circondato dalla neve E poi facevo sempre snowboard Come ora E io vivevo a tutti i frutti beach Dovremmo andare lì a berci un cry juice Ah sì, erano deliziosi Te lo ricordi, vero? E noi eravamo tutti amiche Una volta Stella ha baciato Narvi Sì, me lo ricordo Non è vero Non se lo ricorda nessuno Ah, cos'è? Una collana? Per me? E i mammi segati Non importa, Lulu È il pensiero che conta Sinceramente Mi mancava tutto questo Anche a me Dai, basta, Rim Mi hai scambiata per un gelato Che succede? Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Non è possibile! Che cosa? Non c'è campo E ora come faccio senza il mio telefono? Però Hai detto che Rissu fa delle telefonate E che volevi staccare un po' Beh, sì Volevo staccare un po' Ma così mi sembra troppo Devo occuparmi di faccende molto importanti Ora torniamo indietro E andiamo a vincere il nostro premio speciale Dovremmo vincere noi Abbiamo una bandierina in più Solo una bandierina? Non potete batterci Mi piacerebbe visitare tutti i Frutti Beach Ma penso che sia meglio tornare ora O non riusciremo mai a vincere No, non possiamo andarcene Dobbiamo trovare il modo di far tornare i colori Chi se ne importa di quella gara? Il mondo Magic Tears ha bisogno di noi Ma non siamo più delle bebè Allora possiamo risolvere la cosa da adulte Mettiamola ai voti Ok, va bene, sì Chi se ne vuole andare, alzi la mano Uno, due, cinque Chi vuole rimanere qui, alzi la mano Uno, due, quattro Lala, cosa voti? Non so rispondere Lala, non vorrei metterti pressione Però dipende tutto da te Vuoi che restiamo qui? O che torniamo indietro Così vinceremo il premio speciale Beh, in effetti direi che siamo praticamente adulte Non voglio che ci mandino via dal campus E se si accorgono che ci siamo allontanate Lo faranno Sei voti contro quattro Torniamo al campus Ma io non voglio Non mi piace il risultato Ma è giusto così E poi chissà Magari possiamo provare a tornare più tardi Ehi, che cos'era quel suono? Reem, dove sono finiti tutti? C'è qualcosa di strano? Non è niente È soltanto il vento Forza, torniamo indietro No, non è il vento Questa risata è uguale a quella del mio incubo Cuore a lato, fammi raggiungere l'altro lato Aspettate! No! Non è il campus! Come andiamo via da qui? C'era un cannocchiale, se non sbaglio Possiamo usare quello per cercare un altro portale? Proviamoci! Non ci stiamo tutte qui dentro Non ci credo Il mondo sembra sbiadito Davvero? Fa vedere anche tutti i frutti bici È terribile! Dobbiamo fare qualcosa No, è meglio tornare indietro subito Prima che succeda anche a noi E come facciamo a tornare indietro, genio? Va bene, va bene Calmatevi Volete toccare la mia pietra Che trasforma l'energia negativa in positiva? Ma ci sono altri portali Prima voglio vedere se c'è qualche parte del mondo Che ancora colori Non spingermi No, non spingermi Non sono stata io Nemmeno io Ehi, stai muovendo il cannocchiale Ma no! Ma sì, invece Quella è la foresta di zucchero filato? Jenna! No! Presto, la dobbiamo aiutare Sì, ma come? Ma certo! Voi, Santasis, avete i poteri Io credo di poter trasformare le cose in gelato Tieni, Phoebe Gelato speciale in arrivo E questo è per Jenna Wow, e voi da dove sbucate? Quante cose state portando? Oh, ti ringrazio, Snowy Oh, Faye Pensavo di aver perso queste pietre Sono meravigliose Wow! Un fossile della montagna fantasy Grazie, Betty Devono essere deliziose Chissà come sta la mia cara tutti i frutti beach Grazie, Lulu Mi avevo proprio bisogno Vi ricordate la lacrima magica? Sì, era la cosa migliore del mondo Per me la lacrima migliore era quella di tutti i frutti beach Con le gialli sbirichine Oh, mi mancano tanto Erano sempre contente Anche a me Ma nella foresta ce n'era una che sembrava preoccupata Siamo venute qui per lei Ci hanno sempre fatte stare bene Questo mondo era... Era speciale Davvero, era tutto meraviglioso e profumato Anch'io mi ricordo Eravamo migliori amiche Certo che lo eravamo Oh, Rin Così mi fai il solletico Non sta andando come avevo previsto Ma non mi sconfiggerete È da un po' che non vedo le ragazze Che combineranno? Continua Non mi sconfiggerete 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 Non mi sconfiggerete